Immortale è colui che andandosene lascia qualcosa di sé nel cuore, di chi lo ha conosciuto. Ogni angolo del Salento non solo parla di te. Alla tua famiglia hai donato la forza e la voglia di vivere. I tuoi amici hanno ricordi di una vita vissuta insieme a te e goduta al massimo. A tutti noi hai insegnato ad essere grandi pur restando umili. D'ora in poi guarderemo il cielo con occhi diversi. Ogni nuvola sarà una tua scultura, ogni tramonto sarà un tuo dipinto. Bellezza, maestosità, stupore e gioia create dalle tue mani dall'artista. Ciao maestro, ciao a tutti. Ciao Giuseppe. Il senso dell'esistenza di ognuno è nella memoria. E i ricordi più belli, i ricordi più belli si conservano nel cuore, mentre sono le labbrine, sono le labbrine quelle che trasformano i ricordi in momenti di vita. Non c'è cosa più grande del dolore. Solo il ricordo, solo il ricordo vince il dolore. E solo il dolore ci rende fratelli. L'unico posto dove il tempo non penetra è il ricordo. Ricordare e salutare Giuseppe che non c'è più, per me vuol dire onorare la sua vita. Nessuno muore. Nessuno muore finché c'è qualcuno che lo ricorda. Se ricordare e vivere, niente, niente più vivo di un ricordo. Perché il bisogno di ricordare appartiene al patrimonio di uno. L'uomo, che è mortale, ha una sola cosa di mortale, il ricordo che ha. Il ricordo, come la fede, mantiene unito ciò che alla morte si fa. Il tempo passa, cambiano le persone, cambiano le persone e le cose. Ma i ricordi, ma i ricordi restano intatti nella memoria. E ridivono nel silenzio della coscienza. Perché una vera vigilia non cessa con la morte. Ma si rafforza nel ricordo della memoria. Per me, c'è anche per una persona d'ora. E come di andare per me stesso. Perché ho testato e non può più tornare. Con la vergine del caro Giuseppe, noi tutti, noi tutti abbiamo perso un pezzo della nostra vita. Grazie. 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 Grazie.